cari allievi ed eventuali ospiti se avete già provato a suonare il single, double, paradiddle proposto in un video precedente oggi dovreste essere pronti per il fake afro in open hand infatti ho scelto tra le 12 combinazioni la prima, quella solo con le mani che prevede, come diceva il video precedente l'alternanza tra single stroke roll, double stroke roll e paradiddle prima di destra e poi di sinistra per cui partiamo da quella incominciamo a orchestrarlo sullo snare con due suoni crostic e normale oppure tom e snare piatto, è n'è? io adesso proverò a metterli tutti insieme, questi suoni ti posso aiutare anche con la hi-hat su tutti i quarti anche con due e quattro sul basterone anche con due e quattro sul basterone dopo averlo preparato in tutti questi passi provo a farlo con una base musicale 1, 2, 1, 2, 3, 4 qui aspetta attra all un Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 1, 2, 3, 4... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.